Dicono che il mondo è di chi si alza presto, non è vero, il mondo è di chi si alza felice, Monica Witt. Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 7 ottobre. Continua la politica intelligente del Milan basata sullo scouting, sulla ricerca di giovani talenti prima che scappino. Il verbo più temuto dai dirigenti rossoneri, scappato. Quando un giocatore è scappato vuol dire che certo è giovane, ma il prezzo è lievitato. Per esempio, Nunez è un giocatore scappato. Lang, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo detto che il suo valore è oltre i 30 milioni, lo fa considerare un giocatore scappato. Mentre l'altro giocatore, Fer Scheren, diciamo così che non riscuote le simpatie tecniche di casa Milan. Ma veniamo al titolo, arriverà a gennaio. Di chi sto parlando? Sto parlando di Ugo Cuenca, almeno così trapela dal Paraguay. Lui è un giocatore del Deportivo Capità e dal Paraguay trapela ormai che la trattativa sia in porto e il giocatore possa arrivare al Milan a gennaio. Di Ugo Cuenca non è un nome completamente nuovo. Già i siti il 7 e l'8 luglio avevano parlato di un interessamento per Ugo Cuenca. Poi il 9 agosto il suo agente Bittar aveva detto che ormai le pratiche sarebbero in dirittura d'arrivo. Poi non se n'è più parlato e proprio in queste ore dal Paraguay trapela che il giocatore potrebbe essere, attenzione, un 2005, nato l'8 gennaio 2005. Quindi 16 anni, 17 anni nel prossimo gennaio e proprio a gennaio potrebbe arrivare con passaporto, almeno così si legge, spagnolo. Un giocatore che, come dicevo, compie gli anni l'8 gennaio 2005, potrà già incominciare ad allenarsi con gli under 17, ma dicono che potrebbe già, potrebbe già incominciare a frequentare, tra virgolette, anche le formazioni magari della primavera. Dipenderà un pochino dalle caratteristiche, dalla maturità e dalla caratteristica tecniche, perché l'intensità ovviamente dei ragazzi della primavera, che sono tutti 2002-2003, due o tre anni sono molto importanti a quell'età. Intanto ieri ha parlato Paolo Scaroni, il presidente del Milan, dunque lasciamo per un attimo il discorso futuro, il discorso talenti, il discorso prospetti di campioni, ma veniamo all'attualità, attualità che il presidente Scaroni ha attraversato a 360 gradi. Due o tre concetti mi hanno particolarmente colpito, particolarmente secondo me significativi. Uno, quello che riguarda Pioli, persona seria, concentrata, che non si lamenta mai, persona positiva. Ecco, forse non abbiamo mai sottolineato, nelle tanti video che abbiamo dedicato all'allenatore del Milan, uno dei Demiurghi, uno dei creatori di questo splendido gruppo, non abbiamo mai parlato di positività, nel senso che un allenatore positivo, nei momenti delicati, sa compattare con la sua fiducia. Altro concetto importante, sempre sottolineato dal presidente Scaroni, riguarda Zlatan Ibrahimovic, ma anche la politica, e poi andremo su Zlatan Ibrahimovic, come ci torniamo volentieri su Zlatan Ibrahimovic, la politica del Milan, quella che cerca di rinnovare ai giocatori in scadenza, ma che sa trovare anche dei giocatori che possono sostituire quelli in eventuale partenza. E ovviamente Paolo Scaroni sottolinea soprattutto il discorso riguardante Mignan, che considera già un leader dello spogliatoio. Abbiamo detto di Zlatan Ibrahimovic, dirigente, bisognerà vedere se avrà voglia di fare il dirigente, la testa certamente ce l'ha. Intanto parliamo di Zlatan Ibrahimovic, trappela da Milanello il fatto che lui, sì, non ci sono dubbi, in questi giorni di riposo si stia allenando. Il discorso Ibrahimovic potrebbe avere già una chiave importante venerdì, alla ripresa degli allenamenti, domani alla ripresa degli allenamenti. Perché? Perché se Zlatan Ibrahimovic incomincerà a masticare l'erba, cioè a rimanere fuori, a incominciare a allenarsi lasciando la palestra, lasciando le cure mediche, vuol dire che siamo avviati decisamente verso la guarigione di tutti i suoi problemi e quindi, incominciando a venerdì, a uscire, a non stare più in palestra, a cominciare a sentire il profumo del campo di gioco, è chiaro che poi il giocatore già magari da lunedì potrà incominciare ad allenarsi in gruppo per ritornare definitivamente a guidare insieme a tutti i suoi compagni questo inseguimento. A Napoli sì, perché si parla tanto di un grandissimo Milan, vero, però in testa c'è una squadra che ha vinto sette partite su sette. Beh, un'impresa non da poco. Dicevamo di Zlatan Ibrahimovic, potrà avere la testa, usando le parole di Scaroni, Scaroni è sicuro che possa avere la testa per essere un futuro dirigente, io penso proprio che lui, che l'amore per Milano, l'amore per il Milan, ormai mi è arrivata recentemente una voce che mi diceva che quando, forse ve l'ho già detto una volta, quando c'erano dei dubbi sulla fine della sua carriera statunitense, c'erano magari altre possibilità. Lui ha solo una parola, ha avuto solo nella testa una parola. La parola, cinque lettere, Milan. Lui è innamorato svisceratamente di questo gruppo, di questo ambiente, della città, e quindi vediamo, certo ci sono i problemi familiari, il ritorno in Svezia, ma con una proposta intelligente, ma soprattutto una collocazione intelligente, e una collocazione intelligente all'interno dell'organigramma del Milan, indubbiamente Zlatan Ibrahimović. Potrebbe essere proprio il Tredunion, un organigramma che io immagino con il presidente Scaroni, con Ivan Gazzidis, amministratore delegato, con Paolo Maldini, sappiamo, direttore generale, con Massara, direttore sportivo, ma questa figura di Tredunion, questa figura vicina allo spogliatoio, che possa aiutare i problemi dello spogliatoio da ex giocatore, può eventualmente togliere qualche incarico di più a Paolo Maldini, che in questo momento è una figura, non solo importante sul piano dirigenziale, ma è una figura rispettata dai giocatori, direi ammirata dai giocatori, direi venerata da alcuni giocatori, tanto è vero che Tomori ieri, o l'altro ieri in conferenza stampa, ha detto io voglio giocare bene perché voglio gratificare la scelta di Paolo Maldini, insomma un difensore che arriva al Milan vede Paolo Maldini e insomma Paolo Maldini rappresenta il carisma, rappresenta la leggenda, rappresenta la storia, non del Milan, del calcio mondiale. E quindi Paolo Maldini in questo momento dunque è una figura importante anche nello spogliatoio, ma con la presenza di Zlatan Ibrahimovic, figure importanti e carismatiche nello spogliatoio, possono certamente aumentare per il bene della squadra. Abbiamo sempre detto dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic non solo come giocatore e io vedo proprio la figura di Zlatan Ibrahimovic come dirigente, non vorrei perderlo, Zlatan Ibrahimovic non vorrei perderlo e speriamo che anche lui non voglia perdere il Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.